Vado a finire, capito? Vado a giocare! Vado a giocare! Allora, oggi dobbiamo mangiare l'erba ma non perché siamo vegani, perché noi siamo giocatori sono giocatori di calcio, se vi arriva la palla lunga non salti a caso, come le altre volte il movimento pedico di testa pedico, pedico, non è che pedico se ti arriva la palla alta tu devi saltare non puoi fare di testa tua come sempre voglio vedermi giocare ma contro chi in campo contro chi? appunto contro chi, contro chi gioco ma contro di voi, contro voi stessi contro quelli che entrano in campo che vi vogliono contro chi, contro chi giochiamo io non lo so mi chiamo insuperabili appunto, insuperabili messi, cristiano oraldo mister c'era di là così facciamo così li facciamo oggi al portiere gioco io, faccio il portiere allora oggi senza falli si ho capito ma dov'è la squadra? noi qua siamo dei professionisti sono arrivati ma questo era fallo però salite 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 no scendete 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 no scendete no scendete ma mister o te la prende solo una partita eh sì solo una partita come hanno fatto? Assurdo, assurdo Ma come avete fatto, amici? Cioè alla fine voi avete un uomo Un uomo Un uomo Un uomo Il cuore Ecco Perché vi chiamate insuperati E comunque la fallo Un uomo